e la madonna ragazzi a matrimonio viva testo e manchi solo te dove si apri qui eh bello fa vedere Pippo mamma io fantastico oddio quante quante manchi dietro della pista stasera? oddio mia fatta che faccia che belle questa la teniamo da parte è stupenda questa perché è stasera? ti piacciono? apriamo? che bella questa carta questa è bellissima pure io le volevo le macchinine ma ne prendiamo una per uno noi Anna dai pure dire dai una zia le macchinine me la fai vedere bella? no ah grazie amore grazie guardatevi davvero questi perchè se stai facendo la tutta paritole no ma prima c'ho la panellina che la spinge la candelina ah si 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 cacao aiutami siamo pronti? non c'è il portello non c'è il portello non c'è il portello facciamo passare la manchete la torta si spengono le luci eh ma fiafette eh oh e sono fissate c'è stato dopo le apriamo non c'è la torta apri il video non c'è per ora